ciao amici bentornati nel mio canale in questo video di oggi condivido con voi la ricetta di rotolini di macinato è una ricetta pakistana e anche indiana che voglio condividere con voi è una ricetta molto semplice questi rotolini si possono anche congelare in freezer e utilizzare a più lungo allora vediamo subito come si preparano prima di tutto prepariamo il ripieno ho preso due o tre cucchiai di olio di semi di girasole ma potete prendere anche olio d'oliva a vostra scelta aggiungo dentro cipolla granuli due cucchiai e insieme a questo aggiungo dentro carne macinato di agnello 500 grammi ma si può utilizzare anche macinato di manzo oppure anche pollo a vostra scelta insieme a questo aggiungo dentro aglio in polvere un cucchiaino si può aggiungere anche aglio fresco 23 specchi zenzero in polvere un cucchiaino e inizio a cuocere per cinque minuti sul fuoco medio alto e quando vediamo che la carne inizia a cuocersi e ha iniziato a cambiare il colore dobbiamo aggiungere dentro altre spezie voi sapete che noi pakistani e indiani utilizziamo molto spezie e a noi ci piace mangiare piccante quindi per questo le nostre ricette sono un po ricche di spezie a questo punto quando vedete che ha iniziato cambiare il colore aggiungiamo dentro altre spezie aggiungo sale a piacere io ho aggiunto un cucchiaino aggiungo cannella macinato un quarto di cucchiaino curcuma un quarto di cucchiaino peperoncino rosso mezzo cucchiaino ma potete anche diminuire e peperoncino rosso fiocchi mezzo cucchiaino garam masala mezzo cucchiaino che è una miscela di spezie semi di coriandolo macinati mezzo cucchiaino peperoncino verde un cucchiaino voi ovviamente potete diminuire la quantità di pepe rosso peperoncino verde e perché a noi piace mangiare piccante per questo noi utilizziamo molto peperoncino lasciamo cuocersi sempre sul fuoco medio alto e nel frattempo aggiungiamo dentro anche concentrato di pomodoro un cucchiaio se no potete aggiungere anche pomodoro fresco un pomodoro è abbastanza a da questo punto lasciamo cuocersi per circa dieci minuti e da noi si dice che quando si cuoce carne con tutte le spezie sparisce il suo odore quello del sangue quello che non piace alle persone quindi noi cuociamo molto molto bene con tutte le spezie e tutti i liquidi che escono fuori dal carne si evaporano l'odore del cane sparisce io aggiunto dentro circa due o tre cucchiai di acqua prima che ho fatto evaporare e poi a questo punto ho aggiunto circa mezzo bicchiere di acqua in questo modo aiuta carne a cuocersi adesso lascio sempre sul fuoco medio alto finché si evapora tutto questo liquido che ho aggiunto dentro e il nostro ripieno sia secca si asciuga e sarà già pronto poi quindi lasciamo cuocersi finché si asciuga si evapora tutta l'acqua che ho aggiunto dentro a questo punto vedete che è quasi evaporata tutta l'acqua e significa che il nostro ripieno è pronto la carne è ben cotta ci sono tutte le spezie che si sono ben cotte e sarà buono speriamo questo passaggio di preparazione del ripieno si può fare anche un giorno prima in questo modo non si deve lavorare troppo nello stesso giorno quando vedete che è iniziato si è asciugato totalmente si è evaporato il liquido e si è iniziato vedere l'olio cioè separato l'olio significa che è pronto possiamo trasferire in una ciotola e lasciarsi raffreddare dopo averli trasferito in una ciotola aggiungo dentro ingrediente segreto che è mango essiccato ho aggiunto un cucchiaio e acido critico mezzo cucchiaino insieme a questo io aggiungo coriandolo fresco ma potete aggiungere anche prezzemolo fresco lo mescoliamo tutti questi ingredienti lo lasciamo raffreddare e il ripieno è già pronto come vi ho detto anche prima potete preparare questo ripieno il giorno prima tenere in frigorifero e per poi utilizzare il giorno successivo per realizzare i rotolini in questo modo non bisogna lavorare troppo in un unico giorno adesso iniziamo a realizzare i nostri rotolini per sigillare io utilizzo due uova le sbatto e le tengo da parte in questo modo mano mano che realizzo le sigillo per i rotolini io utilizzo questi fogli che si trovano al supermercato si possono trovare dai negozi pakistani indiani oppure anche dai cinesi io ho visto anche in alcuni supermercati italiani si trovano molto facilmente aggiungo dentro uno o due cucchiai del ripieno quello che è abbastanza per un rotolo lo chiudo in questo modo e dopo di chiedevo sigillare con l'uovo che l'ho sbattuto prima bisogna chiuderli con molta cura con molta attenzione in questo modo quando si frigge non esce fuori il ripieno adesso lo giro sopra e il nostro rotolo è già ben chiuso in questo modo nello stesso modo preparo tutti quelli che ci servono e questi rotolini si possono anche congelare in freezer una volta preparati tutti si mettono in un sacchetto quello per freezer e lasciare semplicemente nel freezer e poi quando bisogna friggerli si tirano fuori due minuti prima e si possono friggere senza problemi non creano molti problemi questi rotolini sono molto buoni sono croccanti e facilissimi da preparare non ci vuole molto tempo io ho realizzato tutti questi e adesso vado a congelarli e al bisogno posso friggerli questi si possono friggere anche in friggitrice ad aria in questo modo non ci serve olio e hanno dentro anche poche calorie io utilizzo questi stacchetti qua che si trovano al supermercato richiudibili sono posta per i freezer li metto semplicemente dentro questi sacchetti e poi si mette in congelatore per congelarli a lungo tempo se questi si possono congelare per circa 4 o 5 mesi e a seconda della necessità si possono friggere non ci serve tenerli fuori ma si prendono direttamente dal freezer e si possono friggere semplicemente adesso vi faccio vedere come bisogna friggerli quando sono belli freschi e come saranno quale sarà il risultato dopo che sono fritti adesso questi li vado a congelare poi vediamo per friggere i questi rotolini utilizziamo l'olio abbastanza caldo non deve essere molto caldo altrimenti si bruciano subito e non vengono croccanti quindi per avere questi rotolini croccanti aggiungiamo nell'olio tiepido e lasciamo friggere per circa 4 5 minuti e cambiando lato ogni tanto in questo modo prendono lo stesso colore da tutti i lati questo tipo di ricette utilizziamo soprattutto nel mese di ramadan cioè al tramonto quando è l'ora di mangiare si mangiano questo tipo di ricette soprattutto con i dati e così via io ho già condiviso le ricette di dati di ricoperti e ripieni potete vedere nel mio canale potete visitare invece con questi rotolini io presentato la salsa alla menta e ketchup la salsa l'ho preparata frullando la menta e lo yogurt e dopo di che ho aggiunto solo sale e peperoncino rosso se si vuole altrimenti si può anche evitare invece questi rotolini sono già pronti sono belli croccanti vi chiedo gentilmente di provare almeno una volta e di condividere la vostra esperienza con me invece se volete vedere qualche altra ricetta pakistana pure indiana potete scrivere nei commenti provvederò di condividere al più presto con voi la ricetta richiesta iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere le prossime videoricette grazie mille grazie per aver guardato questo video adesso noi ci vediamo in un altro video con un'altra ricetta molto buona e gustosa alla prossima